Avete mai visto una squadra di calcio vincere tirando una sola volta nello specchio della porta altrui? È proprio questo che è successo nella decima giornata della Serie C allo stadio Nicola De Simone di Siracusa, dove la Cavesa è stata sconfitta 3-1 dai padroni di casa, in una maniera che definire scalognata è dire poco. Gran gol di Rosafio nel primo tempo per la formazione di mister Giacomo Modica, ma al di là di questo è da rilevare l'involuzione dei metelliani nel secondo tempo rispetto a un primo tempo che non era stato di brutto livello. Il finale dice che il Siracusa di gol ne ha segnati tre, due dei quali sono arrivati su autoreti. La formazione locale ha sbagliato di meno. La Cavese comunque resta lo stesso nella parte sinistra della classifica, benché abbia offerto una prestazione al di sotto dei propri standard. Il Siracusa, affidato temporaneamente alle cure di Ezio Raciti dopo le dimissioni dell'allenatore Giuseppe Pagana, si rende più grintoso in avvio. E dopo che l'arbitro Arace di Lugo al dodicesimo lasciava proseguire su un dubbio contatto fratturati e sciamanna nell'area di rigore del Siracusa, al minuto 24 Vasquez vuole quasi il gol della domenica. Il suo tiro al volo finisce al lato di mezzo metro. Ed è una visaglia per la Cavese, perché un minuto più tardi un efficace break del Siracusa mette Palermo nelle condizioni di effettuare il cross. La deviazione sfortunata è di Bruno, con palla che finisce alle spalle del portiere metelliano Vono. 1-0 per il Siracusa. La reazione della Cavese comunque c'è. E dopo un'azione insistita nell'area siracusana da parte degli attaccanti, al minuto 32 arriva il gol del pareggio. Rosafio salta un avversario e tira da 20 metri. La palla finisce alle spalle del portiere Messina, 1-1. I metelliani concludono meglio il primo tempo, al punto che Licata di testa sfiora il secondo gol per la Cavese. La ripresa comincia subito male per gli ospiti, che subiscono il secondo autogol al 48esimo. Cross di Palermo e deviazione decisiva di Silvestri, che spiazza Vono. 2-1 per il Siracusa. La Cavese gioca le carte Nunziante e Bettini, ma ad eccezione di un tiro di tacco di Sciamanna parato da Messina, non riesce a produrre granché. Anzi, segna il terzo gol proprio la formazione siciliana. Al 68esimo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Bertolo va al cross dal fondo. Di Sabattino si trova abbastanza libero di calciare a rete e realizza il 3-1. Sarà l'unica conclusione del Siracusa nello specchio della porta della Cavese. Nel finale i metelliani ci provano con il cross insidiosissimo di Migliorini, che si procura un calcio d'angolo per la parata di Messina, ma il risultato non cambia più. I tre punti vanno al Siracusa, che ne aveva bisogno per continuare a intraprendere la corsa alla zona tranquilla della classifica. Sabato prossimo impegno ancora più difficile per la Cavese. A Lamberti arriverà la Juve Stabia.